Una relazione tra giovanissimi di nazionalità diversa, le diciottenne albanese, lui 21enne marocchino, ossacolata dai parenti della ragazza, a non essere approvata in particolare proprio l'origine marocchina del giovane, e causa scatenante di una violenta rissa andata in scena in piazza Roma, a Biancavilla. Ad accendere gli animi, l'ennesima uscita in pubblico dei due fidanzati, che insieme alla sorella della diciottenne stavano andando fuori a cena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Biancavilla, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, passando da piazza Roma, i giovani hanno incontrato un londano zio della ragazza di 47 anni e la rispettiva consorte, 43enne, che avrebbero iniziato a rivolgere giovani a una serie di insulti. Avvicinata sia ai parenti nel tentativo di placare gli animi, la diciottenne sarebbe stata malmenata dalla donna, mentre lo zio avrebbe riservato la stessa sorte al fidanzato. Durante la colluttazione sarebbero poi giunti, in favore dei familiari della diciottenne, altri parenti degli zii, tra cui un 32enne munito di coltello, un 37enne che avrebbe iniziato a lanciare contro i malcapitati bottiglie di birra, un 67enne padre della zia acquisita e il figlio, 23enne, della donna. Fuggite dall'aggressione insieme al ragazzo, le due sorelle si sono poi rifugiate in casa propria, dove poco dopo il 32enne, il 37enne, il 23enne avrebbero fatto eruzione, danneggiando la porta d'ingresso su pelletti livari e spintonando il padre delle giovani, aggredita dagli zii, sopraggiunti in un secondo momento, anche la madre della diciottenne. Fondamentale è l'intervento dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà 10 persone responsabili dei reati di risa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento. In concorso condotti in ospedale, le vittime hanno riportato lesioni guaribili in 4 e 8 giorni, gli zii aggressori invece hanno riportato ferite con prognosi di 8 giorni, gli altri aggressori di 67, 37, 32 e 23 anni invece, alla vista dei militari, si sono allontanati frettolosamente.